No, stai ferma. Hai intenzione di evitarmi all'infinito, tu? Senti, c'è un'indagine importante in corso. Non sarei nemmeno dovuta andare via. Avanti, fammi passare. Neanche quando si tratta della perquisizione di Pietro Marconi. Hai intenzione di terirmi fuori anche questa volta? L'ho detto, fammi passare! Alessandro? Dove siete? Sì. Chiamo le forze ben, Vengo. Fai convergere tutte le pattuglie delle volanti. Dai, spiegati. Ciao. Ciao. Grazie. Ehi, come stai? Bene, bene. Lei è Alessia? Ciao, piacere Alessia. Piacere, grazie. Oggi l'ho aiutato un sacco con i... Domani, eh? Non li puoi più lasciare da sola. Eh, no. Però adesso noi dobbiamo andare... Sono in ritardissimo, i treni mi aspettano. Grazie per essere stato con Marco. Ma figurati. Tu come ti senti? Tu come ti senti? Stanca? Un po' stordita, ma... Meglio. E... Il tuo ex? E tu che ne sai? Io so sempre tu. Rispondi? Vi siete baciati, avete ricordato i vecchi tempi. E anche se fosse... Loran, era a te che sparavano. Ma sei... Ma... Se questo... Come facevi a sapere dove eravamo? Quel posto lo conoscevamo? Ma per... Non ho mai smesso di amare.